Prevenzione e repressione sono le parole chiave dell'operazione alto impatto predisposta dalla questura di Ragusa, in vista anche delle imminenti festività. Gli uomini dell'ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico hanno portato a termine l'operazione alto impatto, che ha interessato le piazze e i principali centri di aggregazione del capoluogo Ibleo. Tre giorni di intensi controlli di natura preventiva e repressiva condotti dalle pattuglie della sezione volanti, del reparto Prevenzione e Crimine di Catania e del reparto Cinofili, che hanno passato al setaccio, esercizi pubblici, arterie stradali e luoghi di aggregazione. 25 i posti di blocco disposti nei punti strategici finalizzati a prevenire il fenomeno del pendoralismo criminale, posti in essere da pregiudicati provenienti da altre province limitrofe. In totale sono state sottoposte a controllo 321 persone, 128 autovetture e oltre 1000 targhe controllate tramite l'occhio automatico del sistema Mercurio, di cui sono dotate le volanti di Ragusa, che segnala auto rubate, non coperte da valido contratto assicurativo. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, per un valore di oltre 5.000 euro. Specifici controlli sono stati effettuati nei pressi dell'autostazione di Piazza Zama. Sono stati sottoposti a controllo tutti i passeggeri degli autobus provenienti da fuori provincia, compresi i rispettivi bagagli. Diverse le posizioni controllate di cittadini extracomunitari. Un'attenzione particolare è stata riservata anche ai principali centri commerciali, che in questi giorni sono particolarmente affollati di clienti. Trovata anche droga a bordo di un'auto con tre giovani vittoriesi, passata a setaccio anche una sala giochi di via Colaianni a Ragusa, all'interno della quale sono state controllate circa 40 persone. Intensificata anche l'attività di controllo del rispetto delle prescrizioni imposte a soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale o a misure di prevenzione. Grazie a tutti.